Antonio, dopo la sconfitta contro Manfredonia in quest'altra amichevole è arrivato questo pari contro Domizia? Sì, al di là del risultato a noi ci interessava la prestazione e provare le cose sulle quali stiamo lavorando in settimana. Questo per buoni tratti della gara lo abbiamo fatto, chiaramente c'è ancora qualcosa da sistemare, a mio avviso troppi col subiti e poi chiaramente dobbiamo cercare di finalizzare maggiormente le numerevoli occasioni che andiamo a creare. Come state fisicamente? Fisicamente siamo a buon punto, la squadra lo vista bene nonostante oggi abbiamo due assenze importanti come quella di Bocca e di Denisco, la squadra sta lavorando molto bene e siamo soddisfatti di questo aspetto. Chiaramente dobbiamo crescere su altri fronti, tempo ce n'è ma non troppo, il campionato si avvicina e dobbiamo farci trovare i pronti. Siamo che queste gare e questi risultati magari lasciano il tempo che trovano, però qualche piccolo campanello d'allarme c'è. Sì, come ti dicevo il punteggio non ci interessava più di tanto, chiaramente però secondo il mio punto di vista abbiamo subito troppe marcature e questo non è positivo e va registrato quanto prima. Chiaramente affrontavamo una squadra di categoria inferiore, però ci siamo soffermati maggiormente sul cercare una cooperazione tra di noi visto che abbiamo inserito più di qualche elemento nuovo, lo stiamo facendo discretamente ma dobbiamo fare molto meglio. Grazie.